Ecme, mandami. La passione di Cristo, nostra fonte di vita e missione. La croce è intrecciata e fatta di un materiale freddo e senza vita. Può evocare la nostra realtà piena di interrelazioni, interculturalità, che può formare una struttura molto coerente ma fredda e senza vita. La farfalla è un segno sottile di resurrezione, di nuova vita che emerge, dolcemente, senza rumore, generando speranza. Il cuore evoca il battito del cuore che provoca la passione di Gesù, in colori di luce e calore. Sono l'espressione di una nuova alba, di un orizzonte di speranza. La silhouette del segno passionista è la finestra aperta sul mondo, il cammino da intraprendere, la missione da realizzare a partire dai piccoli segni di vita delle nostre comunità. Lo slogan è molto chiaro, ci chiama a essere protagonisti, ognuno di noi passionisti, di un nuovo invio, a partire dalla passione di Cristo, fonte di vita e della nostra ragione di essere nel mondo missione. Padre Juan Manuel Benito, Superiore Provinciale Escora ha creato il logo del capitolo. Approvato dal Consiglio Allargato e dalla Commissione Preparatoria.